cari membri della community di Stasera eh sono io in assenza di Alberto a condurre questa puntata Alberto è in viaggio sta guidando da da Roma a Bologna non lo invidio perché quell'autostrada che un tempo era un ore vanto dell'Italia l'autostrada del sole oggi è una mulattiera eh piena di camion pericolosa e molto spesso infestata di cantieri ehm come vedete abbiamo come ospite Andrea Zamboni Andrea Zamboni ci ha chiesto ci ha chiesto eh e lo ringraziamo per essere con noi ci ha chiesto di parlare del Texas eh perché lui vive da parecchi anni in questo stato e eh scambiando un po' di idee un po' di ehm come dire opinioni abbiamo deciso che valeva la pena eh dedicare una puntata a questo stato che noi associamo con Tex Wheeler eh con i film western e insomma fumetti e immaginario collettivo ehm prima di entrare nel vivo della puntata il solito piccolo appello ad iscriversi al canale ci aiutate immensamente se lo fate perché diventiamo più visibili all'algoritmo di YouTube quindi questi contenuti ehm hanno una maggiore diffusione idem se mettete un like anche se mettete un dislike va bene lo stesso se commentate e se poi eh sui vostri profili social linkate questo canale ci fate un piacere a voi costa poco per noi è un importante segno di apprezzamento e di sostegno il canale è gratis se vi iscrivete nessuno vi verrà a disturbare con offerte commerciali o di altro tipo quindi è solo un ehm appello che facciamo a chi intende darci una mano. Allora Andrea ehm innanzitutto spiega un po' chi sei e cosa fai. Allora prima di tutto grazie mille dell'invito e dell'opportunità di diffondere qualche cosa nuova io penso sono un fedele appassionato della vostra della vostra comunità vi seguo eh e trovo le puntate veramente molto interessanti costruttive molte parlano di cose che non so e mi e mi aiutano comunque a rimanere aggiornato su temi che per vari motivi non mi toccano o non riesco a toccare la attività di tutti i giorni. Quindi complimenti e grazie ancora e un saluto a tutti i partecipanti della comunità. Io mi chiamo io mi chiamo Andrea Zamboni ehm sono eh di Milano originariamente e eh mi trasferì in Texas eh con una vita italiana. Venni iniziare i primi anni eh che si trovava in un momento di difficoltà di passaggio con management americano. Inzi a venire come dire in in modalità andate e ritorno cioè quindici giorni di quindici giorni e quindici giorni e poi nel duemila e tredici mi definitivamente mi eh trasferì e mi stabilizzai eh in in Texas dove presi la famosa carta verde e poi in seguito presi la cittadinanza che viene diciamo automaticamente dopo un certo periodo di residenza. Poi a un certo punto portai anche i miei figli che avrebbero potuto studiare qua in college e quindi come dire si fecero una cultura universitaria americana. Il Texas. Diciamo che al momento io avevo un'esperienza da ragazzo a New York quando lavoravo per lo studio di consulenza gli anni 90. Stiamo parlando di tanti anni fa. Vabbè New York è New York e quindi hai un'idea tutti la conosciamo più o meno. Arrivando in Texas si chiama un minimo di shock culturale c'è. È uno stato eh molto interessante dove diciamo esistono eh due fronti culturali come dicevo uno eh estremamente conservatore e di valori eh tradizionali a cui ti devi adattare e ti deve piacere. Poi piacere ti è piacere ma è effettivamente ci sono ed è un po' anche la forza della comunità di una comunità molto forte. Allo stesso tempo esiste una grandissima spinta industriale, una grandissima spinta di ricerca e una grandissima spinta di innovazione. per dare qualche qualche delucidazione. Il Texas è uno stato enorme proprio per estensione stiamo parlando della superficie totale di Francia e Spagna. Quindi eh per darvi un'idea prima della deregolamentazione delle linee aeree cioè stiamo parlando della presidenza Carter quindi quasi cinquant'anni fa il Texas aveva una sua un suo mercato del trasporto aereo quindi statale, locale, che non era soggetto alle regole federali e quindi offrì il modello per la deregulation dell'industria della delle delle linee aeree insomma ehm del trasporto aereo e ehm quindi è stato un precursore ma è sempre stato un po' un precursore questo stato perché che ha lo spirito della frontiera mantiene un certo qual senso la voglia di novità quindi e da dall'Europa o dagli stati dell'est si muovevano verso ovest erano le avanguardie no di una mentalità innovatrice di 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 avventura di di progresso e questo è rimasto Texas è un po' l'epicentro di di questa concezione della vita che per vale un po' tutti gli stati appunto del 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 sud ovest americano eh ma che in Texas proprio per le dimensioni ehm è più è un motore potente di crescita assolutamente sì se più importanti sono quella estrattiva quindi petrolio ehm poi anche c'è il Texas rurale dove eh insomma c'è un' agricoltura e c'è un'attività ehm diciamo meno meno industriale e poi c'è il polo dell'i-tech che è Austin Austin Texas è la ehm la capitale dello Stato e insomma quando io studiavo in America negli anni ottanta sembrava così una una cittadina di scarsissimo conto insomma veramente provincia della provincia e oggi invece è una delle eh città con il maggior tasso di innovazione che attira talenti eh che ha università di punta e e quindi è è è è avanzata al centro del fenomeno IT, intelligenza artificiale e quant'altro non solo in America ma un po' a livello gruppo. Ehm le aree sono Houston, Dallas e Austin sostanzialmente. Beh diciamo sì sono le tre maggiori città del Texas a distanze diciamo percorribili tra di loro o in automobili abbastanza agevolmente eh e diciamo le caratteristiche sono abbastanza chiare. Austin è una città creativa in tutti i sensi sia dal punto di vista musicale per dire la cosa più semplice sia dal punto di vista eh IT eh diciamo information technology e eh eccellenze di punta sostanzialmente. Eh Houston ovviamente come eh è notorio è la centrale statunitense del del petrolio e ha poi recentemente c'è tutto il fenomeno del fracking che ha ricominciato ad estrarre il petrolio anche in Texas e in New Mexico diciamo un po' verso west ma alla fine arriva quel petrolio che viene da Canada alla fine a Houston arriva in un modo nell'altro eh e lì viene raffinato trasportato con tutte le tecnologie relative perché uno pensa che ma è non è una cosa come dire da tutti i giorni se no è un'industria estremamente sofisticata. Eh adesso poi ci sono tutta la parte di export di gas naturale porti il porto è una cosa gigantesca e Houston è è effettivamente il centro di questo tipo di industria che si porta dietro un sacco di industrie di tipo di di tutti i tipi di accessori che ti possa immaginare c'è un conto della Saipem o la E o Leni ma poi ci sono un sacco di aziende che lavorano a come dire a completare l'offerta industriale e commerciale e poi c'è Dalla. Lo dico così per chi non lo sapesse ma attorno a un pozzo di petrolio proprio fisicamente ci sono almeno una dozzina di imprese ciascuna che opera in una nicchia eh al controllo della pressione alla manutenzione delle degli impianti e quindi è proprio un mondo estremamente complicato e eh con tecnologie assolutamente avveniristiche soprattutto adesso non pensate al petrolio a un trapano no che che buga il terreno è adesso 20 anni fa poi diciamo iniziarono con la con la tecnologia del fracking che in Europa è ancora bandita sostanzialmente non si può fare qua in America invece si può fare ed è quella che ha dato sostanzialmente l'autonomia energetica agli Stati Uniti volendolo eh ed è veramente sofisticata e deve aprire un posto di petrolio perché poi si esauriscono presto cioè è veramente una roba alta 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 tecnologia spruzzata questa viene immessa quest' acqua da pressione cioè veramente una roba complicata. Acqua a pressione talmente alta da spaccare le rocce di e questo sicuramente è una una esquetto di industria. Poi abbiamo Dallas dove non so per esempio a Toyota aperto a Dallas. Dallas è come dire un po' il centro degli Stati Uniti è un grande centro logistico ed è un grande centro industriale di industria di tutti i tipi anche qua nel senso che finanziaria sicuramente sono un sacco di soldi eh ed è in costante crescita. Tutto il Texas da quando sono qua io in dieci anni è in costante crescita. Crescita di numero di persone, crescita di industriale, crescita di reddito, crescita di tutto, costo delle case, qualsiasi cosa. È uno Stato dove c'è un dinamismo che effettivamente lo percepisci e la cosa bella secondo me è un dinamismo di tipo imprenditoriale, industriale. Qua esiste un concetto di libertà totalmente assoluta se stai nelle regole. Qua puoi fare quello che vuoi, quello che ti pare, nella misura che tu stai però nelle regole della società. Nessuno ti disturba, nessuno ti dispone, cosa ti pare? E questo dà molta innovazione eccetera eccetera. E ci sono tutti i tipi di industria e la città si sta espandendo. Io vivo a Dallas e si sta espandendo in maniera incredibile. Houston è fuori controllo nel senso che tu sei a Houston, cosiddetta Houston, cioè guidi per un'ora e mezza e sei sempre a Houston e ti domani dove sono esattamente perché sembra di essere grande come la Lombardia. Però Dallas ancora c'è un concetto di, e Austin sono ancora come un concetto un po' più europeo, c'è un centro definito e poi i vari quartieri e poi c'è tutti i paesi intorno perché qui le città crescono orizzontalmente. Quindi c'è anche altri stili di vita e così. Allora perché un italiano dovrebbe scegliere il Texas. Gli italiani effettivamente quando io quelli che conosco, ne conosco tanti che vengono qua. Parliamo un po' di questo, scusami Andrea. Cioè chi ci sta ascoltando ovviamente pensa, quello questo Texas, ma io potrei avere qualche opportunità, potrebbe trasferirmi, posso andare a cercare fortuna come si diceva una volta, in questo stato. Cioè mettiamoci nei panni di un ragazzo che si è appena laureato, si sta per laureare, di un giovane professionista che insomma vuole provare, vuole cercare nuove opportunità. Il Texas, che cosa offre? Cioè tu che cosa consiglieresti a questo tipo? Allora io direi, è chiaro che qui, come dire, il mondo del lavoro, specialmente per i neoassunti, il primo lavoro eccetera eccetera, qua si inizia a lavorare presto, nel senso che durante l'università tutti fanno almeno tre mesi di internship. Non esiste il concetto che uno, cioè uno arriva a 23 anni che si laurea e ha già lavorato, però quasi ha fatto qualche idea d'arte sinistra e le università incoraggiano fortemente questa storia qua. Io ho il mio figlio che ha studiato qua e hanno trovato lavoro negli Stati Uniti, entrambi, adesso uno è rientrato in Italia e va a Maxar, credo che sia temporaneo. Un esempio classico potrebbe essere il marito di mia figlia, mio genero, che lavorava come ingegnere meccanico in Italia, poi motivi familiari, un po' le opportunità di mercato, è venuto qua e ha fatto un master all'Università di Texas, ha preso una borsa di studio, ma in ogni caso non è carissimo, perché sono 18 mesi di master, non è carissimo perché le università pubbliche qui sono abbastanza accessibili, per così dire, specialmente se si è residente, ma in generale sono abbastanza accessibili e sono tante borse di studio, tante occasioni per entrare e poi da lì, come è arrivato, ho trovato un ottimo lavoro qua negli Stati Uniti e guadagna il triplo di quello che guadagnava in Italia e così vedi i miei figli. Cioè le opportunità ci sono e ci sono secondo me due opportunità. Uno, via college e sicuramente è il canale ideale, bisogna magari sacrificarsi un anno, un anno e mezzo a fare un master, ma poi dopo anche lì ci sono internship, eccetera, eccetera, job fair, tutto quello che ti può iniziare a inserirti nel mondo del lavoro o se no ci sono tutti i canali, vari canali, di aziende italiane che cercano disperatamente, secondo disperatamente non so quanto, cercano fortemente... Assiduamente, insomma, con determinazione. personale italiano da inserire nelle loro filiali qui in Texas, un po' vale per tutti gli Stati Uniti, ma in Texas dove vivo io esiste questo problema. Perché? Perché l'esperienza ha insegnato a chi l'ha avuta lo sa, a chi non l'ha avuta... Lo capirà presto. Lo capirà presto, ma è meglio che non la faccia. affidarsi, un'azienda italiana, affidarsi al 100% a un manager americano, c'è una differenza di mentalità, una differenza di abitudini, una differenza di visione delle cose che è molto difficile andare d'accordo con il management o addirittura il padrone, nel caso di aziende padronali o aziende, come dire, familiari italiane. Un manager italiano riesce a interloquire, a parlare più facilmente, a farsi capire così. E questa è un'esigenza che noi e tutti abbiamo e secondo me è una cosa che le aziende italiane devono iniziare veramente a vedere, cioè inserire i giovani che però devono sposare lo stile di vita di qua. È chiaro che se vogliono andare al mare o a sciare sabato e domenica non funziona così, cioè quale non è la priorità. Però le opportunità di lavoro, di crescita, di guadagnare bene, di fare una vita di alta qualità, per così dire, per certi aspetti, è molto alta. Tendenzialmente è una città, è uno stato dinamico. Tra l'altro c'è un altro aspetto che secondo me è interessante, che in Texas prevale l'onestà, cioè è un posto dove la gente è tendenzialmente onesta e ti puoi fidare. Mentre a New York devi sempre camminare con le mani dietro al sedere e con le spalle rasente al muro, in questi stati, insomma, sia nel Midwest che poi in quella che chiamano flyover country, all'interno degli Stati Uniti, lontano dalle due coste pacifiche, le due coste ovviamente atlantiche e del Pacifico, c'è una maggiore consapevolezza, c'è una maggiore dose di affidabilità. E quindi... Ti confermo questo. Allora, anche qui è pieno di elinquenti, anche noi abbiamo preso le nostre scopole con tutte le parti, gente che non paga, ovviamente c'è di tutto anche qua. Però devo dire che nella maggior parte di quello che dicevi tu all'inizio, ed è un po' anche il fascino, diciamo, del paese, del posto, esiste ancora una cultura, chiamiamola country, dove la parola conta più di tutto. Cioè, tante volte la gente dice, ma perché devo firmarti un pezzo di carta? Hai la mia parola, come dire, metti in dubbio la mia parola. Poi ci sono anche i delinquenti, ma in assoluto questi valori, come dire, terra-terra, legati alla terra, ci sono. Ma di fatti in generale comunque è un posto, con tutte ovviamente le eccezioni del caso, ma è un posto sicuro e lo avverti. Cioè, tu giri e lo avverti, nel senso che è un posto sicuro, un posto pulito, è un posto dove ti comporti bene e stai bene, come dire, non ci sono dubbi. Cioè, se ti comporti male, poi dopo la western, però se ti comporti bene, stai veramente bene, devo dire la verità. E' una cosa che è vero. Dunque, tu consiglieresti, ecco, a chi volesse, in Italia ormai è un atteggiamento iperdiffuso, penso che lo sai anche tu, già io me ne voglio andare, questo paese è finito. Poi, però, detta in modo brutale da chi, come me, anche come te, è stato all'estero, cioè ha mangiato il pane altrui, che è salato, non è che sia così facile, non è che all'estero stanno ad aspettare col fiato sospeso che arrivi il fenomeno dall'Italia. All'estero ci si fa un culo così e bisogna dimostrare di essere bravi, di essere più bravi spesso di quelli che sono autoctoni, indigeni, e non è che siano come dire, degli imbecilli da quattro soldi, ci sono dei professionisti e delle persone di ottima caratura anche all'estero e quindi, insomma, scegliere il posto dove si hanno maggiori possibilità, dove le opportunità non mancano secondo me è un inizio cruciale. Assolutamente, diciamo che l'America come tu poi sai meglio di me perché tendenzialmente il lavoro non manca, nel senso che se tu vuoi lavorare sicuramente lavori a qualsiasi livello tendenzialmente e è chiaro che qui le opportunità ci sono e ci sono e sono tendenzialmente meglio pagate che in Italia devi fare lo sforzo di adattarti allo stile di vita di qua e effettivamente quello io vedo è chiaro che come ti dicevo prima è facile dirlo ma poi farlo bisogna prendere andare e come dire tra dire e fare farlo però le opportunità qua ci sono certo è più fascinoso per un italiano andare in California effettivamente anche molto più bello non c'è dubbio ma poi dopo è un conto andare in vacanza come dire un conto andare e poi vivere tutti i giorni ecco e qui qui l'opportunità sicuramente ci sono a Houston c'è anche una discreta comunità italiana che aiuta tendenzialmente gli italiani non fanno molto comunità all'estero come avrei potuto sperimentare personalmente però diciamo un po' a Houston che ce ne sono tanti questa situazione c'è e le opportunità qui ci sono ma non c'è dubbio è un paese sicuramente è un è un paese in grande sviluppo benissimo Andrea credo che questo che abbiamo portato questi temi che abbiamo portato all'attenzione della nostra community siano molto interessanti chi vuole approfondire può porci domande nei commenti ci saranno anche magari mettiamo nella descrizione qualche indirizzo qualche link dove si possono acquisire informazioni più precise ti voglio solo così non pungolare vorrei chiederti un po' questa quella che tu chiami una cultura no? perché allora io credo che sia una cultura quella texana così fondamentalmente diversa da quella della provincia italiana se vogliamo no? Magari ecco chi è vissuto a Roma può fare un po' di fatica ad adattarsi al Texas ma chi è nato a Campobasso ecco ha meno difficoltà perché poi sono quei valori che tutto sommato ancora resistono anche nella provincia italiana no? la famiglia la comunità per chi ci crede il senso religioso le amicizie insomma mentre New York è una città veramente difficile cioè dove ognuno per sé neanche Dio per tutti diciamo Tiro e basta gli altri si arrangiano no no ma è proprio un mondo dove ogni passo è una lotta ecco il Texas è ancora un po' è tuttora insomma intriso di queste virtù rustiche chiamiamole così è vero è una città sana tutto diciamo io dico il Texas ma forse un po' tutto il Midwest nel senso se vai in Texas in Oklahoma io ho visto più o meno la idea è la stessa Texas è un po' più diciamo pool e in un certo senso va un po' più avanti un po' più creativo da questo punto di vista c'è delle scuole anche un po' migliori quindi un po' i giovani i giovani tendono a venire qua se possibile però è vero c'è questa cultura come dire di provincia investe cowboy e questa è la cosa che secondo me è abbastanza affascinante del posto dove tu vedi poi alla sera vai al country bar dove c'è quello con i cowboy e la vacca con i longhorn e poi dopo il mattino invece vai a SpaceX a fare il lancio del satellite e questa storia qui effettivamente però è quello che lo rende anche interessante e devi abbracciare devi essere in grado di abbracciare tutto tra l'altro tra l'altro per gli artisti insomma magari il nostro pubblico non è detto che sia solo di professionisti di un certo tipo anche per gli artisti Austin è una città molto interessante cioè ha una scena musicale che è tra le più vivaci degli Stati Uniti dopo Nashville sì sì ecco quindi anche chi ha qualche aspirazione artistica un pensierino a Texas lo deve fare sì sì sicuramente più che in altri posti siccome Nashville è il posto numero uno ma Austin hanno questo City Live che dura due mesi c'è una serie di concerti ed è molto vivace da questo punto di vista molto molto vivace la natura com'è perché il Texas parte diciamo così da una zona desertica proprio insomma con la sabbia o le rocce desertiche e arriva al mare no? che arriva il territorio del Texas comprende un clima anche torrido d'estate insomma non è non è un posto dove le estate sono piacevoli ma com'è dal punto di vista naturalistico le coste e questo è tutto se non sbaglio allora è assolutamente tutto diciamo il paesaggio è forse la cosa meno attraente del Texas sei a Dallas in centro Dallas il posto è migliore dove puoi andare a fare il weekend c'è oltre o quattro posticini perché anche però le distanze sono gigantesche la costa è brutta non vale la pena andare giù verso Houston non vale la pena è molto lontano se le cittadine sono carine ma non è un bel mare non vale la pena ci sono un po' di colline di posti carini fuori Austin che lo chiamano Hill Country ed è molto grazioso devo dire sono un po' di canyon un po' di colline è stata un po' mossa è molto piacevole ci sono un paio di canyon andando verso il New Mexico e poi c'è quello che viene chiamato il West Texas dove c'è appunto l'olio il petrolio e lì ci guidi per tre ore e ti sembra veramente non si deve essere un film ma niente i film che vediamo ogni tanto arrivare sono così insomma è veramente così e da questo punto di vista voglio dire il Colorado è molto più bello ecco per intenderci e il clima è molto bello per nove mesi nel senso che i nove mesi pare i tre mesi estivi qua veramente si so che sono 40 gradi è pesante però però scusami è vero che a Houston non ci sono marciapiedi perché tanto la gente non cammina no non è vero beh tanto dobbiamo capirci un attimo è appunto Houston il centro è una grande esatto no non è vero ci sono tre o quattro quartieri a Houston grandi ma grandi quando grandi bellissimi verdissimi una cosa che molta gente viene tutti quelli che ho chiamato i miei sono venuti a trovarmi sono rimasti stupiti Dallas e Houston anche di quanto è verde uno non se l'aspetta è verdissima e non è vero no anzi solito che camminare qui è in un altro tipo di camminare non è come che in Italia la gente va a farsi la passeggiata in centro fa due passi in centro per vedere le vetrine qua camminare è uno sport nel senso che ti metti vestito da ginnastica e vai a camminare ti fai mezz'ora di camminare fine porti il cane quello che hai insomma comunque è un'attività non è ed è piacevole non è non è una camminata della natura piacevole diciamo così è una camminata della natura è una camminata della natura va bene Andrea ti ringrazio speriamo che per chi ci ha ascoltato finora queste informazioni siano utili ripeto per approfondimenti scriveteci nei commenti e per il momento ti ringrazio e do appuntamento ai nostri abbonati avventori occasionali amici e amiche alla prossima puntata io ti ringrazio dell'ospitalità ispiratevi al canale e welcome to Texas se venite arrivederci a tutti grazie mille ciao 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 iscriviti al canale Grazie.